Una scelta che ti cambia la vita, questo il claim dello spot dedicato al servizio civile universale ed è stato pubblicato il bando che offre a circa 56.000 giovani la possibilità di svolgere un anno di servizio civile e che sarà aperto per le candidature fino alle ore 14 del prossimo 15 febbraio con possibilità di presentare le domande esclusivamente in modalità telematica ed in questo scenario Lega Copp Umbria mette a disposizione 211 posti su 9 progetti in tutto il territorio regionale L'esperienza di servizio civile dura 12 mesi ed è rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 29 anni non compiuti con un impegno di 25 ore settimanali ed un rimborso di 439,50 euro erogati direttamente dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale Il primo passo è quello di scegliere il progetto tra quelli finanziati progetti che si possono consultare sul website Lega Copp Umbria Dopo questo step si può dare il via alla procedura di iscrizione per presentare la domanda è necessario possedere uno SPID, sistema pubblico di identità digitale di secondo livello che si può facilmente richiedere attraverso diversi provider Il servizio civile è un'esperienza importante per i giovani perché permette ai ragazzi di sentirsi cittadini attivi prendendosi cura del prossimo e rappresenta anche un primo passo nel mondo del lavoro Il valore aggiunto di Lega Copp Umbria sta nella sua natura associativa e cooperativa I giovani, oltre che intraprendere un'importante crescita personale entrano in diretto contatto con operatori ed educatori oltre che con i meccanismi del mondo del lavoro e i numeri dicono di fatti poi che il 30% dei ragazzi continua a lavorare nella cooperazione imparando a conoscere i valori che essa persegue e l'anno di servizio civile favorisce un percorso di crescita consapevole con risultati molteplici molti ragazzi si iscrivono a nuovi percorsi formativi o corsi di specializzazione inerenti al mondo del sociale altri vengono assunti dalle imprese cooperative in cui hanno effettuato il servizio altri ancora trovano un impiego in altre imprese grazie alle competenze acquisite grazie a tutti Grazie.